Un post amat per San Bernardo. È la richiesta che si va facendo di giorno in giorno sempre più pressante nel popoloso quartiere di Lodi, nei confronti dell'ufficio postale decentrato di Viale Italia. Mentre gli altri tre uffici presenti in città, quello provinciale di Via Fascetti alle spalle della stazione ferroviaria, quello di Via Volturno in pieno centro storico e quello di Via Lodivecchio nel quartiere di Porta Regale sono dotati dell'apparecchiatura che consente l'erogazione di alcuni servizi essenziali, quello di Via L'Italia ne è privo. Così, per il prelievo di contanti o per altre operazioni per le quali non è strettamente necessario l'operatore fisico, i residenti nel quartiere di San Bernardo sono costretti a fare riferimento agli altri uffici, soprattutto nei giorni festivi. Ad essere penalizzati da questa situazione sono in particolare i clienti più fragili, persone anziane che hanno poca confidenza con i pagamenti tramite carta di credito o Bancomat e che hanno qualche problema nello spostarsi con facilità in città. È per questo che si fa sempre più palese la necessità di poter disporre nell'ufficio postale di Via L'Italia di una postazione postamat in grado di ridurre i disagi di queste persone. È una via praticabile.